Ciao a tutti, siamo all'incrocio Bernardino Ramazzini e adesso girerò per via Giacomo Folchi, è una via che praticamente poi si ricollegherà alla via Portuvense. Eccola qua, questa è via Giacomo Folchi e adesso la percorreremo. Grazie a tutti. Grazie. 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 È una via molto lunga. Grazie. 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 Grazie a tutti. Guardate che magnifiche ville. Grazie. 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 Buongiorno. lungo, vi ho dato solamente un'idea della via, ma la via è veramente molto lunga, eccola qua, questa è la via Portuense, stiamo alla fermata dell'autobus, Folky Portuense, vedete? Adesso mi avvicino perché voglio farvi vedere la mappa, per chi non conoscesse Roma qui c'è scritto tutto, metro A, metro B, metro C, gli autobus, la ferrovia, è una piantina molto descrittiva. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video.